È l'Africa la protagonista dell'anteprima della quattordicesima edizione del festival biblico Aliceo Quadri di Vicenza e non a caso, visto che il tema su quale è incentrato l'evento quest'anno è proprio il futuro, su quale ormai è chiaro incideranno profondamente crescita demografica e migrazioni. A raccontare situazioni e contraddizioni del continente africano sono intervenuti il giornalista Gad Lerner, il direttore di medici con l'Africa, CUAM, che lavorano nei paesi sub-sariani occupandosi di mamme e bambini. Siamo un paese vecchio, con l'età media di 45 anni, che guarda con spavento i giovani e guarda con paura il fatto che non muoiano più tanti bambini come prima, come se questa fosse la nostra minaccia e non la nostra speranza, ma è uno sguardo da vecchi appunto. Andare in Africa significa anche scoprirne le meravigliose potenzialità. Pensare di cavarsela dicendo gli mandiamo qualche soldo è un'ipocrisia perché è tanto che deve cambiare, ma deve cambiare cominciando dalla loro esperienza e dalla loro vitalità. L'obiettivo che abbiamo è quello di far sì che le mamme e i bambini possano, una partorire in maniera sicura e dignitosa e dall'altra un neonato sopravvivere. Tutto questo è un dovere etico-morale, ma anche poi però delle ricadute importanti per le sfide che il nostro mondo sta vivendo. La sfida demografica per esempio, quella della natalità. Stasera siamo anche per sfatare un principio, cioè il principio per cui se noi gli aiutiamo a nascere e nascere in maniera sana, in realtà non è che aumentiamo la natalità, la demografia, ma con l'andare del tempo la calmeriamo e quindi contribuiamo anche a equilibrare questo squilibrio demografico per cui noi stiamo calando e loro crescono e allora la gente parla di invasione. Non è così, è solo investendo in Africa, nella scuola, nella formazione, nella sanità di base che noi diamo risposte concrete anche al tema della fertilità e quindi della demografia. Cultura, scuola, istruzione. Le bambine che lasciano precocemente la scuola sono le mamme che faranno 10-12 figli pensando che ne muoiano la metà e che non c'è altra funzione sociale per le donne se non quella della riproduzione. In tutti i luoghi dell'Africa, per esempio nel Nord Africa, dove processi di scolarizzazione sono andati a buon fine, c'è stato anche un forte calo della natalità. Inevitabile poi una domanda a Gadlerner sulla comunità europea che tanto fatica ad organizzarsi sulle migrazioni e le politiche ed attuare. Le dico soltanto che sono tornato la settimana scorsa dal Senegal, dove le rimesse degli emigranti, cioè i 50, 70, 80 euro che mandano alle loro famiglie giù tutti i mesi, sono il 15% del PIL, gli aiuti europei, la cooperazione internazionale, neanche la metà. E allora come facciamo a dire li aiutiamo a casa loro?